Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Oggi Francesco non c'è, sono da solo in radio e vabbè, niente, farò la trasmissione praticamente completamente da solo. Francesco l'avete sentito, l'avete sentito in un paio di trasmissioni che ha fatto il pomeriggio, sostituendo altre persone che non potevano venire in radio. Bene, innanzitutto io vi ricordo gli appuntamenti che sono in corso. Francesco mi ha chiesto, mi ha pregato di ricordare l'appuntamento anche di Cittadella per il 4 settembre, una commemorazione praticamente delle Radici Veneti, la festa dei Veneti, ai quali praticamente intende partecipare all'interno della sfilata. Detto questo, io ricordo, vabbè, il 4 settembre appuntamento a Cittadella per la festa dei Veneti. Noi abbiamo praticamente il rito della Deuotio che fra poco terremo sull'altipiano di Asiago, verso a fine, vabbè, insomma, quando è? E prego le persone di mettersi contato a quelle che non hanno fatto, quelle che hanno già le coordinate e ci vediamo allora praticamente al rito della Deuotio. A settembre invece, il sabato 24 settembre, terremo il rito del equinozio d'autunno, che quest'anno sarà organizzato da Francesco. Si troviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo a commemorare praticamente i mondi del silenzio. Questi sono gli appuntamenti che per il momento la Federazione Pagani e i Pagani hanno qui nel Veneto. Il rito della Deuotio, vi ricordo che ormai sono 10-11 anni che lo stiamo tenendo sull'altipiano di Asiago e praticamente il rito fondante è il paganesimo perché è una richiesta di relazione fra gli esseri umani e gli dèi. Ed è un rito fondamentale. Al di là poi che le immagini che vengono usate sono immagini che noi abbiamo preso dalla religione romana, però non è tanto l'immagine o la forma importante, è importante il messaggio che noi diamo agli dèi attraverso la recitazione della Deuotio, attraverso il nostro intento. Cioè qui non si tratta di dire questo Dio o quell'altro Dio, si tratta invece di mandare un messaggio agli dèi del mondo dicendo guardate che noi siamo scesi in campo, noi manifestiamo il nostro intento, noi manifestiamo noi stessi, per cui voi dèi vedete di alzare il deretano e vedete di affiancarvi e di aiutarci. Proprio per questo discorso da Deuotio oggi ho due praticamente argomenti portanti a trasmissione di oggi. Uno volevo legarlo proprio a Deuotio, mi dispiace solo che non ci sia Francesco perché lo legavo col discorso di Galasso, la follia che viene dalle ninfe ed è un discorso abbastanza complesso che non abbiamo mai fatto, proprio perché non ci ho neanche pensato, finché due cose sono arrivate in contemporanea ed è il discorso di Galasso sulla follia che viene dalle ninfe e un altro discorso di una ricerca scientifica che è stata fatta che ci permette proprio di capire proprio quel discorso che fa Galasso ed è un discorso abbastanza antico, abbastanza antico nel senso che anticamente il discorso era talmente normale, ma talmente normale, talmente ovvio da non dare praticamente nessun peso alla questione. La questione invece ha assunto un peso un po' particolare quando nel Medioevo l'organizzazione criminale chiamata Cristianesimo ha pensato di inventarsi il possesso, cioè le persone possedute da qualcosa di diverso da sé, possedute dal demonio, e sono andate a infarcire tutta quell'orda criminale ed assassina che sono gli esorcisti, ricordo che decine e decine sono i morti fatti dagli esorcisti, proprio per andare praticamente a distruggere le persone, asserendo che le persone erano possedute da qualcuno, da qualcosa, dal demonio, come la pazzia cattolica, la pazzia cristiana va recitando continuamente. Ebbene, il discorso che volevo fare oggi è il discorso sulla possessione, proprio per far capire che in realtà il discorso è inverso, è invertito, cioè non sono gli dèi, non sono gli oggetti del mondo che possiedono gli uomini o le donne, ma sono gli uomini e le donne che hanno dentro di sé gli oggetti del mondo e che li possono esprimere. E questo è il terrorismo cristiano, il terrorismo cattolico, ha fatto decine e decine di morti, vi ricordo un morto l'abbiamo qui a Treviso, un disastro, fatto degli esorcisti con un povero ragazzo malato di schizofrenia. Ne abbiamo parecchi, oppure la madre che stacca le orecchie alla figlia, che dice che è posseduta dal demonio, roba di questo genere, ne hanno fatte di quote di crude in pratica, proprio seminando quello che è stato il terrore, seminando la paura, seminando l'odio all'interno delle persone. E l'altro discorso che volevo fare è il concetto di male assoluto. Il concetto di male assoluto, come voi sapete, nella regione parana, nelle antiche religioni, diciamo così, non è mai esistito. In realtà nel paranesimo in sé, nelle antiche religioni, chiamiamole così che è il più giusto, il male assoluto non è mai esistito. È esistito da quando c'è il cristianesimo. I due discorsi, praticamente, vengo a farli, a sovrapporli oggi in questa trasmissione. Sono discorsi abbastanza complessi, che richiedono molta attenzione, e sono discorsi che normalmente, anche negli anni scorsi, ho sempre fatto nei mesi di agosto, nei mesi di luglio e di agosto, proprio quando era più caldo, quando minore sono gli ascoltatori, quando maggiore è richiesta l'attenzione. Perché? Perché io sono convinto che da questi microfoni della radio è stato seminato molto potere, molte cognizioni, molte nozioni che le persone potevano usare per la loro vita. Ora, c'è una regola in stragoneria. Io faccio le cose perché io le voglio fare. Non mi interessa chi le afferra, però chi le afferra e cammina con me è chiaramente un mio amico. Pertanto, questa regola è sempre stata rispettata dai microfoni di questa radio fin dai nove anni fa che trasmettiamo. Bene, allora, cominciamo a comprendere il discorso sulla possessione che ci viene da Galasso. Vi ricordo che La follia che viene dalle ninfe è un libro appena pubblicato, scritto da Roberto Galasso, il quale praticamente prima fa un'introduzione sulle ninfe e poi fa un'analisi di alcune cose che ritiene importanti attraverso dei film che a lui piace. Per esempio, c'è il guanto di Gilda, c'è la finestra sul cortile di Hitchcock e una serie di altre cose. E da là lui legge tutta una serie di divinità, tutta una serie di aspetti del divino, tutta una serie di azioni che fanno le ninfe sulle persone. Però, noi ci leggiamo il pezzo a proposito della possessione. La pagina 27, vi ricordo che il libro è edito da Adelphi e costa 7 euro. Per i greci la possessione fu innanzitutto una forma primaria della conoscenza, nata molto prima dei filosofi che la nominano. Si può addirittura dire che la possessione comincia a essere nominata quando la sua sovranità sta già declinando. E' perciò curioso osservare con quale sicurezza studiosi come Dodds affermano che Omero ignorava la possessione. Ma la ignorava semplicemente perché era dovunque. Tutta la psicologia omerica degli uomini e degli dèi, questa mirabile costruzione che solo l'ingenuità dei moderni ha potuto giudicare rudimentale, è attraversata da un campo all'altro dalla possessione. Se possessione è in primo luogo il riconoscimento che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano e sfuggono ogni controllo, ma possono avere nomi, forme e profili. Con queste potenze abbiamo a che fare in ogni istante. Sono esse che ci trasformano in cui noi e in cui noi ci trasformiamo. In questo senso l'Iliade, sin dal primo verso che nomina l'Ira di Achille, è una storia di possessione, poiché quell'Ira è un'entità autonoma, incuneata come una scheggia nella mente di Achille. Quando la vita si accendeva nel desiderio o nella pena o anche nella riflessione, gli eroi omerici sapevano che un Dio li agiva. Ogni accrescimento subitaneo dell'intensità faceva entrare nella sfera di un Dio. Questo è il primo significato della parola enteos ed è il cardine stesso su cui ruota la possessione, pneus deo. Così la traducevano i latini. La mente era un luogo aperto, soggetto a invasioni, incursioni, subite o provocate, incursius. Ricordiamo, è il termine tecnico della possessione. Ciascuna di quelle invasioni era il segnale di una metamorfosi e ogni metamorfosi era un'acquisizione di conoscenza, certo, non già di una conoscenza che rimane disponibile come un algoritmo, ma una conoscenza che è un pathos, come Aristotele definì l'esperienza misterica. Questa metamorfosi che si compie lottando con figure che abitano al tempo stesso la mente e il mondo o abbandonandosi a esse è il fondamento della conoscenza metaforica che riconosciamo nella possessione. Una conoscenza che non può presentarsi se non in termini erotici, teolptos e teoflaptos, l'essere presi dal Dio e l'essere colpiti dal Dio. Le due modalità fondamentali della possessione corrispondono ai due modi dell'epifania erotica di Zeus, il rato e lo stupro. La conoscenza metamorfica è un fiume sotterraneo che appare a luce e scompare di nuovo per tutta la nostra storia. Così la sua definizione più drastica sarà formulata da un grande neoplatonico rinascimentale, Patrizzi, conoscere e scoere cum suo cognibili. Perciò Platone, dopo aver elencato nel Fedro i quattro tipi della possessione, afferma che la possessione suprema è quella erotica, la mania erotiche. Racconta Pindaro che la possessione erotica esce nel mondo dall'Olimpo sotto forma di un oggetto, una sorta di giocattolo enigmatico che alcuni hanno avvicinato alla trottola, altri al diabolo. Era una ruota con quattro raggi, a cui si saldava il corpo di un uccello, il torcicollo, noto per i suoi guizzi convulsi. Afrodite, la sovrana dei dardi più veloci, dice sempre Pindaro, ne fece dono a Giasone perché seducesse Medea, la dea nata a Cipro, portò per la prima volta agli uomini il variogato uccello delirante e insegnò al sapiente figlio di Esone incanti e fatture perché facesse dimenticare a Medea il rispetto dei genitori del desiderio di vedere la Grecia, frustasse la sua mente infiammata con la sfera di Peitò. Ma chi era? Isnix, il variegato uccello delirante? Una ninfa, ancora una volta. Aveva offerto a Zeus un filtro d'amore per farlo incapriciare di Io, sacerdotessa di Hera, e Hera l'aveva punita trasformandola in quell'uccello di cui i greci dicevano che era Seisopigis, che scuote le natiche. E' forse questa la prima immagine in cui troviamo saldate la fatalità e la fatuità. Il nome delle fate, eredi delle ninfe, deriva da fata, le tre parche, e da certe oscure divinità femminili dette fatue. Vi ricordo che a Roma le fatue erano le statue che rappresentavano le fatiche che facevano le donne a partorire. Nome che si riferisce al fari profetico prima di dare origine in francese e in italiano alla parola fatuità. Nella ruota a cui il torcicollo viene saldato riconosciamo la ruota di Sione, il cerchio ineluttabile della necessità, mentre nei guizi di Iltisni i greci percepivano un gesto della fatuità erotica, noto a tutti i music all, e di saldarlo insieme come dovremmo saldarli noi per risalire all'origine delle ninfe. Dunque la possessione e in particolar modo la possessione di Afrodite, la possessione dell'amore. Ora, ciò che i greci sapevano e che non sanno assolutamente i cristiani per la loro stupidità, per la loro ignoranza, per la loro vergognosa, assidua voglia di distruggere a stuprare gli uomini, è che la possessione è fatta in modo diverso da come loro immagino. Non è un egetto esterno che possiede l'individuo, ma è l'individuo che manifesta il Dio. Cioè noi in realtà come esseri umani siamo un immenso crogiolo di dei. un immenso crogiolo di dei in milioni e milioni di anni da quando siamo usciti dal brodo primordiale ha forgiato ciò che noi siamo. E quando noi siamo innamorati noi possediamo Afrodite. Non è Afrodite che possiede noi. Noi possediamo Afrodite. e la cosa più divertente di questa possessione è che ha una descrizione scientifica che è appena stata elaborata. In pratica cosa succede? Succede che come al solito quando i pagani fanno delle affermazioni e le affermazioni vengono quasi sempre avvallate dalla scienza. Sì, per certe affermazioni dovremmo aspettare ancora un po' di tempo ma altre affermazioni vengono avvallate in maniera precisa e sistematica dall'apparato scientifico. Ed è esattamente di questo che io vi voglio parlare. Cioè voglio parlare della possession dell'essere umano che possiede Afrodite e come la possiede non perché la possiede perché il perché la possiede o come la esprime questo lo sanno solo gli stragoni che sanno come avvengono le trasformazioni come avvengono le azioni all'interno dell'essere umano. Però la scienza è in grado di leggere una situazione di fatto. Cioè è in grado di leggere cosa succede nella mente umana quando gli esseri umani stanno manifestando Afrodite. Proviamo a leggersi dal giornale Starbene settembre 2005 solo che la stessa cosa io ve l'ho già detta e la notizia era già venuta fuori perché si tratta di un grosso lavoro di analisi scientifica era già venuta fuori in altri quotidiani solo che Starbene praticamente le ha dato una visione che leggendola vi permette di capire quando un individuo si fa venere quando un individuo possiede Afrodite e la possiede proprio nel modo in cui i cristiani pensano a Afrodite cioè il male d'amore la pazzia d'amore cioè non sto parlando di altri aspetti di Afrodite perché Afrodite vi ricordo è una divinità immensa e il suo immenso agisce dentro di noi in maniera totale in maniera sistematica però c'è un aspetto molto particolare di Afrodite per il quale Afrodite viene ricordata cioè la dea dell'amore ed è questo suo esprimersi dentro di noi che non è lei che si impossessa di noi ma siamo noi che la scateniamo dentro di noi e la chiamiamo nell'oggettività proviamo un attimino a leggersi cosa ci dice il giornale Star Bene si tratta di Star Bene di settembre come si accende la scintilla per capire immagina per un attimo di essere in discoteca ti guardi in giro all'improvviso lo vedi agli occhi grandi e scuri un ciuffo di capelli sfiora il viso la bocca morbida è piena indossa una maglietta bianca sul torso sottile è con lui che vorresti ballare stasera lo fissi lui ti guarda e si avvicina a te mentre ballate ti stringe fra le tue braccia tu non ti scosti come al solito ti appoggia a lui a secondi suoi movimenti due ore dopo state ancora parlando fitto fitto delle vostre vite è come se vi conosceste da sempre è proprio lui che aspettavi è con lui che ti sei sposata tre anni dopo quella sera in discoteca e legna da ardere e lui la miccia che ha infiammato la vostra passione ti sei innamorata e in pochi istanti il tuo cervello come nel suo si è scatenata una tempesta dentro la tua testa si sono liberati fiumi di dopamina il neurotrasmettitore che fa esplodere l'euforia questo fiume scintillante si è insinuato nei centri cerebrali che dominano il piacere che magari da tempo se ne stavano quieti e un po' appassiti il fiume di dopamina li ha nutriti li ha scossi li ha rinvigoriti e ha risvegliato in te la gioia e la voglia di vivere e di amare due fonti hanno errorato questo vitalissimo fiume la corteccia prefrontale sede degli stimoli cognitivi e l'ippocampo assieme all'amigdala e alle aree limbiche sede degli stimoli emozionali in quella notte incantata di cui ti ricorderai tutta la vita la tua corteccia cerebrale si accorta di lui e di quanto ti piacesse mentre l'ippocampo e l'amigdala si sono messi a vibrare all'unisono ma non basta in quel luogo strepitoso in parte ancora sconosciuto che è il nostro cervello succedono altri fatti sconvolgenti che ti hanno fatto letteralmente perdere la testa il fiume di dopamina nel suo scorrere impetuoso cancella paure e inibizioni e ti impedisce di scorgere qualsiasi difetto macchia o qualsivoglia imperfezione che possa deteriorare il candito abito da imperatore che hai messo indosso al tuo amato poco importa se sotto si nasconde un palo della luce questo semmai lo scoprirai in seguito troppo tardi comunque per fermare l'amore tutto ciò perché noradrenalina e serotonina intervengono come ancelle benefiche della dopamina nel prepararti un letto di rose senza spine almeno all'inizio la serotonina infatti ti libera dai freni libitori che ti impedirebbero di guardare troppo per il sottile mentre la noradrenalina ti fa sentire immediatamente di buon umore ma se l'innamoramento è un'estasi una grazia del cielo una felicità che inonda di luce la nostra vita perché secondo gli esperti della mente può essere paragonato a una malattia vediamo quindi secondo gli scienziati quali sono i sintomi di questa febbre e a quali disturbi della mente si possono paragonare quando quella famosa notte di sei innamorata il tuo umore è balzato le stelle ma già la mattina dopo quando lui alle sette non si trova ancora non ti aveva ancora chiamata sei piombata nella disperazione e così giorno dopo giorno salti di gioia quando lui ti chiamava e musi neri quando ritardava di tre minuti all'appuntamento sai come si chiamano questi sintomi nei disturbi mentali stati ipomaniacali o maniacali non solo che dire dei cosiddetti pensieri intrusivi ti bastava vedere un'auto identica alla sua per avere un balzo alle coronarie qualsiasi Alberto e questo forse il suo nome ti faceva morire di nostalgia e voglia di vederlo dopo ogni incontro con lui tornavi a casa ti sdraiavi sul letto e non facevi che ripetere parola per parola quello che vi eravate detti la tua mente dunque nel periodo dell'innamoramento è stata occupata dal pensiero di lui almeno per l'ottanta per cento del suo tempo troppo? l'hanno misurato credimi insomma sai come si chiama in psichiatria un'idea pulsante ricorrente come il pensiero continuo del tuo amato si chiama ossessione e sai a che cosa è associata a un comportamento altrettanto ripetitivo che è la compulsione quante volte hai provato a chiamarlo una sera che lui aveva il cellulare spento? cento volte? ecco dunque che la febbre d'amore è paragonabile a un disturbo ossessivo e compulsivo ecco questo è quanto ci dice l'articolo l'articolo poi va avanti dice ancora quanto quanto durerà e così via in pratica cos'è che noi stiamo facendo? noi stiamo possedendo venere venere si manifesta attraverso noi noi stiamo chiamando venere per intervenire non è la possessione di un oggetto esterno ma è noi che siamo riusciti grazie a dei fenomeni esterni ad impadronirci della divinità ma se vale per venere vale per Ares vale per concordia vale per per armonia vale per peito vale per tutte le divinità dell'Olimpo vale per Zeus vale per Rea vale per la terra vale per tutte le divinità dell'Olimpo e per dei titani stanno tutte dentro di noi e ogni volta che noi ne esprimiamo ne esprimiamo una variamo la nostra struttura fisico-psichica ma siamo noi che ci impossessiamo delle divinità siamo noi che siamo in grado di esprimerle non è un oggetto esterno che si impossessa a noi soltanto un idiota come un cristiano può pensare di essere creato di magia e somiglianza del dio pazzo e cretino per cui ecco che il demonio si impossessa del suo corpo e non si avvede che milioni e milioni di anni hanno prodotto ciò che noi siamo attraverso piccole e grandi variazioni piccoli e grandi salti magari se è possibile alla fine della trasmissione vi accenerò a qualcosa visto che sono apparsi anche degli articoli su questo cioè soltanto un cretino come un cristiano va a pensare una cosa del genere ma perché un cristiano pensa l'essere umano come una bestia una bestia creata da un dio pazzo e cretino no come un insieme spaventoso e meraviglioso di esseri divini che lui è in grado di esprimere lui è in grado di manifestare lui è in grado di gettare nella vita nell'arena della quotidianità ma questa è la visione è la visione del paganesimo è la visione dell'infinito che ci sta di fronte e dell'infinito che ha lavorato perché noi esistessimo ricordate che noi siamo l'unica ragione di esistenza di tutti i nostri padri per milioni e milioni di generazioni lo diceva un nero protagonista del film di Amstrad quando l'avvocato gli chiedeva perché vuoi continuare a combattere nonostante il potere schiavista il potere che vuoi schiavi e lui dice noi siamo l'unica ragione di esistenza di tutti i nostri padri cioè i nostri padri i nostri padri i nostri padri sono vissuti affinché noi viviamo ma se noi non abbiamo il coraggio di vivere se noi non abbiamo il coraggio di manifestare gli dei che abbiamo dentro se noi non abbiamo il coraggio di entrare nell'arena della vita a dire io esisto bene tutte milioni di generazioni che ci hanno preceduto fin da quando il nostro nonno uscì dal brodo primordiale noi gli sputiamo in muso gli diciamo io sono un vigliacco tu sei esistito per milioni e milioni di anni e io lascio perdere tutto quello che tu hai fatto lo butto via questo ricordatevi perché noi siamo dei noi abbiamo dentro di noi un infinito numero di divinità e sta a noi manifestarle nella vita io vi ho raccontato come afrodite l'afrodite dell'amore l'afrodite della passione l'afrodite dell'innamoramento si esprime dentro le persone ma non vi ho parlato di ciò che scatena questo ed è la volontà degli individui è la volontà del nostro essere dei che ci permette di afferrare tutti gli dei dentro di noi ricordatevi sempre questo quando parliamo del paganesimo delle antiche religioni le antiche religioni non avevano l'idea di mettersi in ginocchio si avevano l'idea del venerare l'idea della comunione col mondo in cui vivevano però non avevano l'idea della sottomissione chiamavano gli dei a sorreggere il loro cammino esattamente come facciamo noi quando andremo a recitarle ma non abbiamo sottomissione agli dei perché noi siamo in grado di manifestare il nostro dio noi non siamo ridotti a disperazione come un cristiano che può solo supplicare un paradiso noi non abbiamo questo noi abbiamo un agitarsi di dei dentro di noi e noi dobbiamo imparare a padroneggiare tutto questo e questo è il discorso della possessione non un oggetto esterno un demonio qualcosa si impossessa degli individui ma noi abbiamo grandi forze dentro di noi che dobbiamo impossessarsi e manifestarsi e attenzione quando parliamo spesso di malattie psichiche parliamo spesso di strumenti che noi avremmo a disposizione per usarli nella vita di tutti i giorni ma questi strumenti si trasformano in malattie si trasformano in distruttivi soltanto se noi rinunciamo ad usarli nella vita di tutti i giorni soltanto se le persone rinunciano al sognare rinunciano all'intento allora certe aree del cervello vengono occupate dalla malattia psichica se le persone rinunciano a vedere certe aree del cervello diventano ossessive vengono usate in maniera ossessiva e si trasformano in illusioni si trasformano in anche visioni che sono alterazioni della capacità percettiva dell'uomo ma soltanto se noi mandiamo a quel paese gli strumenti che i milioni di anni la nostra specie ci ha forniti per usarli ricordatevi questo o tanto ricordatevi che dentro di noi c'è un immenso un immenso che va scatenato bene adesso che ho finito di parlare della possessione dal punto di vista del paganesimo e comunque vi ricordo che Galasso parla delle ninfe le ninfe che sono associate agli sorgenti perché in fondo le sorgenti sono come gli occhi della terra la terra è vista come un drago e gli occhi della terra sono le sue sorgenti e le ninfe in fondo sono l'acqua mentale l'acqua della mente l'acqua del sapere e della conoscenza che si agita dentro di noi e che tenta di sgorgare sempre di trovare un modo attraverso il quale esprimarsi comunque Galasso fa questo e dopo aver fatto una piccola analisi introduzione del discorso delle ninfe vado ad analizzare alcuni film che a lui piacciono molto e li associa proprio con la follia che viene dalle ninfe quella follia che ti spinge dentro perché tu possa manifestarti proprio come un dio nella vita di tutti i giorni beh visto che sono riuscito a finire anche questo discorso che volevo fare passiamo ad un altro discorso e passiamo al concetto di male assoluto nella religione pagana politeista che cos'è il male per la religione pagana politeista grazie a tutti